Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, vogliamo presentare una notizia lampo, praticamente c'è poche ore, 18-17 ore. Allora, praticamente la notizia nasce dal canale 13 israeli. Quindi viene direttamente da Israele, però a riportarla sono sostanzialmente pochi giornali americani, nello specifico l'Ai24 News, che dice appunto Report, Russia lancia missili contro in Siria, aerei israeliani. Poi viene presa anche da, per quello che ho potuto vedere, investigare e scoprire solamente un giornale italiano, che si chiama il K4-Bits. La domanda del milione, ma è vero o è falso? Recita quanto segue, una batteria di difesa aerea russa risposta ad attacchi su obiettivi in Siria da parte di aerei militari israeliani, i paesi nato a corto di armi da inviare in Ucraina, la verità sul trattato dell'OMS sulle pandemie in Cina, pioggia e neve artificiali, insomma c'è un resoconto. Poi chiedono loro, vero o falso, tra pandemia e guerra in Ucraina siamo bersagliati costantemente da argomenti che investono la nostra vita in modo divisivo, mai come in questi casi occorrerebbero pareri moltipli da fonti autorevoli, invece siamo bersagliati da fake news di ogni tipo, mentre influencer veri si alternano con pifferai magici in una costante rincorsa tra vero e falso. La rubrica è curata, mi porta due nomi che non voglio fare per privacy, per consultare tutti gli articoli, ok, clicca qua, vero o falso, ok, e poi porta questa notizia. La batteria di difesa aerea russa ha risposto all'attacco israeliano venerdì scorso lanciando diversi missili. La notizia è stata resa nota solo stasera però dall'emittente israeliana Channel 13 che ha citato fonti straniere. Dopo centinaia di attacchi aerei contro obiettivi in Siria da parte delle forze israeliane, una batteria di difesa aerea operata dall'esercito russo venerdì ha risposto a una ondata di aerei dell'aeronautica israeliana che attaccavano obiettivi nella parte occidentale del paese. E poi ti metti il link appunto all'Ai24 News, un giornale americano. Ok, nelle more che insomma passeranno i giorni e riusciremo a capire se questa notizia è vera o è falsa, intanto comunque la portiamo. La parola di Dio non parla solo di guerre ma parla anche di rumori di guerre. Comunque o vero o non vero, se non è pane è pan bagnato. Se non si concretizza come profezia di guerra, si concretizzerà come profezia di rumori di guerre. Arti e rumori di guerre, per esempio vediamo il giornale Il Mondo dice quanto segue. Scusate ma la pubblicità mi chiude tutto ogni volta che inizio a leggere ma appena scendo pubblicità. Che stress. Allora Finlandia, allora ripetiamo perché c'è la pubblicità che non mi fa vedere niente. Ma chiuso pure un'altra volta il titolo del nome del giornale, dovrebbe essere Il Mondo, non si vede più niente. Ok, Finlandia, Putin sposta missili nucleari verso il confine. Il video che mostra gli iskander sui camion. Uno spostamento che suona come una minaccia, la Russia ha portato alcuni missili al confine russo con la Finlandia. In un video pubblicato su Twitter e rilanciato da diversi account, si vedono missili iskander trasportati su un'autostrada verso Viborg. Una città della Russia occidentale vicino al confine finlandese. Un'operazione che non avrebbe stato grandi sospetti in tempi recenti. Ma Helskini sta in questi giorni per aderire alla NATO. E allora questa mossa ha il sapore di un avvertimento. Ok, poi un altro giornale ne parla, ovvero il mattino. Il mattino recita quanto segue, titolo Finlandia, Putin sposta missili nucleari verso il confine. Il video che mostra gli iskander sui camion. Insomma dice quello che ha detto quell'altro. Ah, però questo fa vedere il video. Ah, interessante, eccolo qua. Ci fa vedere il video. Vediamoci il video. Peccato che voi non lo possiate vedere. Me l'ha pure chiuso. Quindi manco io posso più vedere. Allora, torno a ripetere quello che ho detto prima. Staremo a vedere nei prossimi giorni se realmente la Russia, come stanno dicendo alcune testate nucleari, testate giornalistiche, scusate, sono ancora dormendo, è mattina presto. Come hanno detto alcune testate giornalistiche, vediamo se sarebbe vero che Channel 13, il canale israeliano, avrebbe dato questa notizia, fra l'altra presa anche da canali esteri, come è questa storia che un canale israeliano prende notizie da canali esteri, mi sembra normale perché magari l'esercito israeliano non ha voluto rendere nota la notizia e questo ci sta, perché è una notizia molto grave. Chiaramente noi che stiamo un po' seguendo la situazione da vicino ci rendiamo conto che le due parti, sia quella russa che quella israeliana, in questo momento sono in tensione, lo sono sempre stati certamente, però in questo momento come mai. La stessa mossa che Putin ha fatto nel rivendicare quella chiesa ortodossa in Gerusalemme è certamente una mossa che comunque rientra nella guerra, perché ricordiamo per l'ennesima volta che le guerre non iniziano mai con i missili, ma iniziano appunto con l'economia, la diplomazia e quant'altro, quindi questa è una vera e propria guerra, quindi insomma Russia sta, a prescindere se sia vera o falsa questa notizia, comunque Russia si sta sempre più in asprendo nei confronti degli ebrei e certamente anche perché comunque gli ebrei hanno già messo il piedino in Ucraina e vuoi che sia per motivi diciamo pacifici che poi ci sono dei forti interessi, certamente vuoi che non sia così insomma la situazione sta degenerando. Ok, quindi abbiamo anche il fattore Svezia, il fattore Finlandia che da una parte Putin dice, il Cremilino dice, noi non abbiamo nulla al contrario che la Finlandia possa aderire alla Nato, basta che poi la Nato non sposti il suo arsenale dentro la Finlandia, ma fa un po' ridere questa situazione, no, non fa ridere quello che ha detto Putin, quello che ha detto Putin ci sta, ma fa ridere un po' tutta la situazione, nel senso che quando mai, a parte basta guardare alla storia, no, dal momento in cui nasce la Nato, la Russia ha detto guarda l'importante è che poi voi non mettete i vostri armamenti nei paesi che aderiranno alla Nato e questo non è mai successo, la Nato si è sempre espansa via più e adesso i paesi che stanno nella Nato hanno grandi armamenti, basti pensare l'Italia che non sappiamo quante bombe atomiche abbiamo, bombe atomiche, bombe nucleari degli Stati Uniti di America, interessante questo e così via discorrendo e non abbiamo alcuna gestione su queste armi e quant'altro. Quindi dire che, pretendere che la Nato poi in un prossimo futuro non trasporti il proprio armamento nella Finlandia, nella Svezia e quant'altro, quando queste aderiranno, se aderiranno, vedremo, insomma, è come dire al sole, mi raccomando, non fare luce e questo è quanto. Insomma, stiamo vedendo questa situazione, questa situazione, a mio modo di vedere per quanto riguarda il ritorno di Cristo, il rapimento della Chiesa, il giorno del Signore, questa qui è proprio quella più importante senza nulla togliere il Covid, che è epocale, quello che è successo, che sta succedendo col Covid. Ancora la gente ha la bocca attappata, ma questa qui è proprio epocale. Conosciamo tutti quanti la profezia e stiamo vedendo come esattamente si sta concretizzando tutto. Al di là di tutte le profezie che abbiamo portato negli anni che sono molto importanti. La profezia regina in questo è Gog e Magog di Ezechiele 38, 39, però c'è anche un'altra profezia che noi l'abbiamo citata tantissimo, che appunto è il primo capitolo di Sofonia. Nel verso 14 dice Il grande giorno del Signore è vicino. Egli è vicino e si affretta molto. La voce del Signore, scusate, la voce del giorno del Signore sarà di persone che grideranno amaramente. Apro parentesi. Interessante quelle posizioni che dicono che il giorno del Signore è un giorno bello, meraviglioso e stupendo. Wow! Mi domando dove hanno studiato l'italiano questi nostri fratelli italiani, fratelli nel senso che sono italiani come noi. E quindi la profezia dice che questo giorno verrà in fretta correndo, tant'è che la profezia dice che addirittura dentro quel giorno i giorni stessi saranno abbreviati. Infatti oggi, proprio materialmente parlando, è un dato di fatto. La Nasara l'ha detto che le giornate addirittura si sono accorciate. Quindi questo ha più significati. Se tu leggi però tutta la profezia di Sofonia, cominciando dal verso 1 e non dal verso 14, noterai cose molto interessanti. E dice così. La parola del Signore che fu indirizzata a Sofonia, figliolo di Cusi, figliolo di Gedalia, figliolo di Amaria, figliolo di Ezechia e di Giosia, figliolo di Amonne, re di Giuda, io farò del tutto perire ogni cosa sulla faccia della terra, dice il Signore. Nota bene. Ogni cosa sulla faccia della terra perirà. Questa è una profezia escatologica che riguarda il giorno del Signore, chiamato anche quel giorno. Infatti, nel verso 7 dice, silenzio per la presenza del Signore e Dio, conciossia che il giorno del Signore sia vicino. E più avanti userà molto quel termine, che noi appunto andiamo veramente, insegnando da tanto tempo, quel giorno, quel tempo. Quando la scrittura ti dice quel giorno, quel tempo, apri le orecchie, perché molto spesso ha a che vedere col giorno del Signore. Infatti, per un ebreo, per qualsiasi persona che conosce l'Antico Testamento, sa perfettamente cos'è il giorno del Signore. Ecco perché poi dopo, quando noi arriviamo all'Apocalisse, la Rivelazione, ci accorgiamo che l'ebreo sa perfettamente quello che si sta dicendo in quel meraviglioso libro. Infatti, il libro inizia con Io fui rapito nel giorno del Signore, che erroneamente, per ignoranza, alcuni dicono Ah, è la Domenica, ma per cortesia. Signore. E poi ti parla di una sciagura dietro l'altra. No, è la Domenica. Ma quale Domenica? Ma signore, abbi pietà dell'ignoranza. La Domenica, eh. Infatti pure il Diodati, che è stato un grande traduttore, lì ci ha messo la Domenica. Ma quale Domenica? Il giorno del Signore, Curio, Scurion, è quel periodo che poi il Nuovo Testamento andrà a spiegarlo meglio e che ha appunto chiamato la Grande Tribolazione. E per capire bene, l'Apocalisse devi vedere, perché c'è molta più Apocalisse nell'Antico Testamento che nella stessa Apocalisse. Quindi per capire bene l'Apocalisse, per capire quello che si sta dicendo, devi leggere in primis il suo libro complementare, il veterotestamentario Daniele, e poi tutti i profeti minori, cominciando appunto dal primo, Osea, Gioele, Amos, Amdia, Giona, Michia, Naum, Abacu, Sofonia, Ageo, Zaccaria, Marachia. In quasi tutti, non in tutti, c'è una quantità di Apocalisse del giorno del Signore tremenda, tremenda, infatti, infatti, qui siamo in sofonia. E sofonia proprio inizia, poi prosegue nel verso 2, io farò perire ogni cosa sulla faccia della terra, dice il Signore, verso 3, io farò perire gli uomini, gli animali, io farò perire gli uccelli del cielo, pesci del mare, gli intoppi, insieme con gli empi, e sterminerò gli uomini sulla faccia della terra, dice il Signore. Domanda del milione, dove sta scritto nella parola di Dio che nell'Antico Testamento Dio era un Dio tremendo, un Dio d'ira, e nel Nuovo Testamento è un, scusate il termine, lo dico con massimo rispetto, un zuccherino. Qui stiamo nel Nuovo Testamento, ovvero Sofonia è l'Antico Testamento, che parla del futuro, della fine dei tempi, che sta nel Nuovo Testamento, e quindi è l'epoca della grazia, nell'epoca della grazia succede a questo, ok, la grazia finisce nel giorno del Signore. Infatti lì vediamo che c'è tutto un altro discorso, dove chi non accetta il messaggio delle Vaggele addirittura viene bruciato, cade fuoco dal cielo, viene tolta la pioggia e quant'altro. Però sta nel Nuovo Testamento. Grande ira sta per arrivare sulla Terra e tutto questo sta avvenendo in fretta, in fretta, in fretta. Quello, e vado a chiudere, quello che stiamo oggi leggendo, che sta facendo la Russia, ci dovrebbe far destare lo sguardo. Ecco lo sposo, 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 tra un po' suona la tromba. Perché quando verrà lo sposo? Verrà in un momento in cui due staranno alla macchina del molino, due staranno in un letto, due staranno seminando, due staranno lavorando. L'uno sarà preso. Quindi sarà una, un periodo storico dove nella Terra ci saranno molti posti dove ci sarà appunto cibo e quant'altro. Quindi sarà all'improvviso, non è la fine della grande tribolazione dove non c'è più cibo, non ci sono più persone perché sono morti quasi tutti, le stelle cadono dal cielo, il sole non è né giorno né notte, c'è una morte, muoiono miliardi di persone, non è un ambiente tranquillo. Quindi tutto questo sarà, quando ancora in molte parti del mondo ci saranno queste situazioni, diciamo tranquille, due macineranno il grano, due in un letto, due dormiranno, quando invece dentro il giorno del Signore i letti saranno troppo stretti per il riposo, non solo per gli ebrei ma per tutto il pianeta, per lo spavento, la gente sarà marchiata, i cristiani saranno uccisi tutti, tutti dice, tutti, tutti. E quindi oggi gli eventi alla luce delle profezie ci confermano quello che queste dicono, ecco lo sposo, ecco lo sposo, ecco lo sposo. E io, Alessio Evangelisti, sono una delle miliardi di voci che il Signore usa per dire, ecco lo sposo, destati. E quindi prepariamoci, non c'è da giocare perché poi succederà all'improvviso, all'improvviso succederà. A parte che il credente dovrebbe stare anelandolo, proprio vedo l'ora. Questo dovrebbe essere lo Stato, perché quando ami qualcuno non vedi l'ora di vederlo, se tu non vedi l'ora di vederlo tu non sei innamorato, e se non sei innamorato di Dio sarai innamorato di qualcun altro, di mammona, perché non puoi amare uno e odiare l'altro. Quindi se non ami Dio, amerai mammona, separiamoci da mammona. Questo mondo tra un po' ci si sgretolerà dalle mani, per usare un eufemismo, mettila un po' come ti pare. Ecco lo sposo. Tra un po' ci andiamo a casa, il rapimento della Chiesa è imminente, alle porte, questa generazione lo vedrà, quando non lo sappiamo, ma questa generazione lo vedrà, all'improvviso succederà. Gli eventi sono chiari, le profezie sono chiarissime, perché ha orecchie da ascoltare. Nel frattempo facciamo quello che possiamo, cerchiamo di strappare più anime possibili all'inferno, cominciando dalla nostra famiglia. Sforziamoci. Il regno di Dio è, i violenti lo rapiranno, i violenti, i violenti sono quelli che fanno violenza a se stessi, andando contro la propria carne. Chi vuol guadagnare la sua vita la perderà. Attenzione a questa parola, ti lascio con questa parola. Chi vorrà guadagnare la sua vita la perderà. rifletti, perché come si sono adempiute tutte le profezie del passato, si adempiranno anche queste. Maranatha, il Signore viene. Sorridi, che Gesù ti ama. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Se Dio vorrà, ci si vedrà al prossimo videoprogramma. Shalom.